Che cosa le ricorda Palumbo, uno delle persone che abbiamo cercato e non siamo riusciti a trovare? Che cosa le ricorda? È presidente anche della Trasparenza, Commissione Trasparenza Campionale. Cioè, sta nel concorso, sta nel concorso di questi 107. Che cosa racconta? Tra l'altro... Aspetti. Palumbo mi ricorda le facce sorridenti dei consiglieri del Partito Democratico che assieme ai consiglieri della destra andarono da un notaio per far decadere il sindaco per evitare che... E' questo che mi fa detta. Firmarono per mandarla a casa. Sì, ma no, questo però, Luca Telese, lei è un attentissimo osservatore. Non le può sfuggire che il motivo c'era e nessuno lo ha mai veramente sottolineato. Perché un sindaco dovrebbe essere sfiduciato in aula. Se io andavo in aula, raccontavo tutto quello che questi signori facevano e certamente non sarebbe stato... Ma guardi che... La devo fermare, devo andare in pubblicità.